Conferenza stampa di Stefano Pioli oggi a Milanello. Alle 14.30 si sono toccati tanti argomenti e sentirete la sintesi, come sempre, della conferenza stampa di Pioli. Un Pioli molto calmo, sereno, ha parlato di energia, la stessa parola e poi sentirete più specificatamente per quale motivo abbia usato la parola energia, che ho usato io nel sottolineare l'andamento delle sedute di questa settimana, degli allenamenti di questa settimana. Un Pioli che alla conferma ha avuto la fiducia della società, è stata confermata la fiducia della società, proprio perché non solo per i risultati, non solo per la crescita della squadra, ma la crescita dei giocatori e per Stefano Pioli, e quindi un riconoscimento giusto, e per la società è importantissimo avere la crescita dei giocatori, la valorizzazione dei giocatori, un altro degli elementi importanti. Chiaro che conterà la posizione finale in classifica del Milan, ma grande stima di Stefano Pioli, che verrà sicuramente confermato. Stefano Pioli che sta preparando la partita di domani alle 20.45, arbitro signor Calvarese con Donna Rumma, Calabria, Chiaro, Romagnoli e Teo Hernandez. A proposito, turno di riposo per Tomori, ma vi assicuro, e se ve lo dico io vi assicuro, Tomori è un giocatore che ha la totale stima di dirigenti e di staff tecnico. Tomori il Milan farà di tutto per averlo anche nella prossima stagione, pagandolo, c'è una cifra molto chiara, non ci sono possibilità di avere degli sconti, e dunque Tomori sarà anche il prossimo anno del Milan come lo stesso Tonali. Tonali che non giocherà domani, dovrebbe essere Cimeite e Chessy, con davanti sicuramente Cialanoglu, sicuramente per fortuna Zlatan Ibrahimović, con Rebic favorito sulle A o a sinistra, e a destra lascio ancora il dubbio tra Diaz, tra Dias, tra ovviamente il solito titolare, e sta giocando molto bene Seleme Kerr, con anche Castiglieco sempre da tenere in considerazione. Quindi questa è la situazione alla vigilia di una partita che anche Pioli ha definito decisiva, è inutile parlare, pensare alla partita con la Juventus, bisogna parlare, pensare alla partita contro il Benevento che domani viene a cercare come il Milan i punti per la conferma della posizione nelle prime quattro, anche il Benevento vuole, dopo una stagione certamente positiva, fino a qualche settimana fa, cercare di portare a casa punti con il suo atteggiamento, con la sua vivacità e con il suo brio. Quindi è una partita certamente complicata, ma intanto sentiamo Stefano Pioli. Beh, onestamente i dibattiti sono aperti, è anche giusto che sia così, perché abbiamo fatto metà campionato benissimo e adesso stiamo facendo un giorno di torno meno bene, quindi è giusto valutare tutte le situazioni. Il fatto di essere una squadra più compatta, assolutamente sì, credo che in questo momento serva ancora più attenzione, ancora più attenzione concretizziamo meno di quello che potremo fare. E quindi è chiaro che essere molto più determinati, molto più attenti in certe situazioni deve essere un obiettivo, soprattutto per la partita di domani. Ma io credo che le caratteristiche determinanti per essere squadra e per essere una squadra forte siano principalmente tre. La qualità del gioco, lo spirito del gruppo e mettere in campo un grande cuore. Con queste caratteristiche chiaramente abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. Se veniamo un po' a meno in tutte queste tre cose, è chiaro che poi dopo diventa più difficile ottenere certi risultati, soprattutto risultati importanti e soprattutto centrare un obiettivo importante come quello dove vogliamo arrivare noi. Quindi è chiaro che dobbiamo alzare la nostra qualità di gioco, sicuramente, e dobbiamo avere un grandissimo spirito di sacrificio, un grandissimo spirito di collaborazione, di comunicazione, tutte quelle cose che fanno sì che una squadra possa essere attenta e determinata per 95 minuti. Questo è senz'altro. Ma io credo che questa squadra abbia sempre avuto gli atteggiamenti giusti, sia di disponibilità, di voglia di crescere, voglia di migliorare. E credo che questa sia una di quelle situazioni dove la squadra, dove il gruppo possa crescere maggiormente. Perché attraverso queste sfide, attraverso queste difficoltà che un gruppo giovane come il nostro deve dimostrare, però di avere la coesione, la volontà, la forza, la determinazione, lo spirito di reagire e di tornare a vincere. Questo assolutamente. Quindi siamo passati attraverso dei periodi molto felici, molto positivi. Adesso bisogna dimostrare che quei periodi felici e positivi ci hanno permesso di crescere, ci hanno permesso di maturare e di superare anche momenti difficili come questi. Adesso siamo solamente concentrati sulla partita di domani. Ho visto una squadra concentrata, determinata, ma so benissimo che le mie parole di oggi servono a poco. Dobbiamo dimostrarlo sul campo domani sera. Il supporto del club, il supporto dell'area tecnica non è mai venuto a meno. Stiamo parlando comunque di persone che sanno cos'è il calcio, sanno cosa significa una stagione così lunga, così competitiva e sanno che le stagioni così difficili passano anche da momenti particolari, da momenti delicati. Quindi la loro presenza, il loro supporto sicuramente ci aiuta, ci fa stare sempre molto concentrati, molto determinati e quindi è così che si porta avanti un grande clecco come il Mina. Per quanto riguarda la presenza di Ibra, sappiamo tutti quanto possa essere importante la sua presenza sia dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista caratteriale del carisma, della personalità, di quello che può fare in campo, di quello che può dire in campo. Quindi contenti che lui possa essere a disposizione, è pronto, è determinato come sempre, quindi sicuramente ci aiuterà. Io la cosa importante è che ho sempre avuto il sostegno del club, della proprietà e dell'area tecnica, ma alleno un grande club, dove ci sono grandi aspettative, quindi portare un lavoro di qualità e soprattutto risultati all'altezza, questo è l'obiettivo e questo è quello sul quale mi sto concentrando e stiamo pensando alla partita di domani, alle prossime cinque partite, poi dopo, spesso durante la stagione mi avete fatto domande sul futuro o sulle valutazioni, le valutazioni si fanno a fine stagione, si fanno i conti, si fanno solamente la fine. Quelle che stiamo facendo oggi, che faremo anche domani, sono ancora valutazioni parziali, quello che ci dirà il campionato ci dirà il 23 maggio e poi si faranno le valutazioni per quanto riguarda il mio futuro, io sono assolutamente convinto di quello che sto facendo, convinto della bontà del lavoro, convinto della bontà della squadra, l'appoggio della società totale, quindi vado avanti per la mia strada. Secondo me la parola chiave è energia, dobbiamo avere una grande energia dentro, perché sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo quanto lavoro abbiamo fatto per essere qui, sapevamo che sarebbe stata una stagione stimolante, motivante, ma allo stesso tempo difficile, molto competitiva e quindi essere qui in questo momento a giocarci il nostro obiettivo a cinque giornate da fila ci deve dare grande energia. Poi chiaramente veniamo da due sconfitte che ci hanno fatto male, come è normale che sia per un gruppo che tiene così tanto a fare al massimo le proprie situazioni, però dobbiamo assolutamente credere nelle nostre qualità, credere nelle nostre caratteristiche, alzare il livello della nostra qualità del gioco, controllare meglio la partita, controllare meglio la partita significa attaccare meglio quando abbiamo la possibilità di farlo, difendere sicuramente più la squadra quando la palla ce la va negli avversari. Per quanto riguarda attaccare qualcosa negli spogliatoi, io sono assolutamente convinto che l'è un gruppo molto intelligente, molto responsabile. Sinceramente penso che domani farò il mio discorso motivazionale, come sempre faccio prima delle partite, ma credo che non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, per quanto i giocatori sanno l'importanza della gara, per quanto i giocatori sono dentro alla nostra situazione e a questo finale di campionato. Buongiorno Stefano, ci sono due argomenti che sono come gli scarafaggi, sono rimasti chiusi, nascosti perché c'era luce al Milan e quindi gli scarafaggi non c'erano, appena è arrivato un po' di buio sono venuti fuori e sono questi due argomenti, uno che ti riguarda personalmente e l'altro la squadra. Uno dei due è che questo Milan è da quinto posto, adesso sta lottando per il quinto posto, questo ovviamente è un commento e quindi tutto regolare e quello che ha fatto fino adesso è stato un'eccezione. Primo argomento. Secondo argomento, che me lo aspettavo prima o poi, ecco il famoso, che sicuramente ti dispiace sentirtelo dire sempre, il famoso secondo anno di Pioli, il ritorno di Pioli eccetera. Ripeto, come scarafaggi belli al buio, adesso sono tornati fuori. Per rimandarli indietro, cosa un commento a queste due situazioni e a queste cose che sono uscite ovviamente dopo le sconfitte ultime? Ma nessun commento in particolare se non che, ma non per rimandare, ma la realtà saranno i giudizi a fine campionato. Il giudizio a fine campionato sarà determinante il nostro piazzamento, quanti punti riusciremo a fare, quanti vittorie riusciremo a fare da quella alla fine. È quello che riusciremo a ottenere. Se arriviamo nelle prime quattro saranno solo commenti positivi, se arriviamo dopo le prime quattro ci saranno dei commenti negativi, ma come è normale che sia, per tutto quello che abbiamo fatto di buono nel resto del campionato, per la flessione che abbiamo avuto nel girone di ritorno. Solo noi la Roma siamo le squadre che hanno giocato così tante partite in Italia e avete anche visto cosa è successo a livello di infortuni ieri alla Roma, che purtroppo dopo 20 minuti ha preso due giocatori. Ma non conta niente i commenti in questo momento, né mi turbano quelli sulla reale posizione del Mina, se è quella giusta, è il quinto, noi vogliamo arrivare nei primi quattro e se non ci arriveremo saremo delusi. Sulla mia seconda stagione alla fine faremo i conti, se faremo gli stessi punti dell'anno scorso non sarà stata una stagione positiva, se ne faremo di più riusciremo ad arrivare nei primi quattro sarà stata una stagione molto positiva, ma adesso queste cose qua non ci toccano e non mi toccano e non ci devono toccare, ci deve toccare solamente il nostro obiettivo e dare il massimo alla fine e voglio una squadra, ma ho fiducia nel mio giocatore, ho molta fiducia nel mio giocatore, voglio una squadra che dia il massimo, che domani deve scendere in campo assolutamente con la convinzione, con la determinazione, con la grinta necessaria per ottenere tre punti, solamente questo. Queste le parole di Stefano Pioli, ha parlato appunto di energia che deve tornare ai suoi ragazzi, alla mia domanda vuole tutto rimandare giustamente alla fine del campionato, certo dispiace vedere che Milan venga ormai derubricato a squadra ospite delle prime quattro per tante settimane ed è tornata e che sia tornata ora nella sua posizione che per molti era quella giusta a quinto, invece il Milan deve reagire, è stata in testa la classifica per tantissime giornate, 21, poi ancora positivo nelle ultime nel secondo posto e adesso deve reagire a questo momento difficile per prepararsi bene alla parida contro la Juventus, c'è solo un modo, battere domani il Benevento, tornare a respirare magari l'aria del secondo o terzo posto per essere concentrati poi per il grande sforzo finale, ma tutto parte dal match contro il Benevento. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegratti.